La Confuimpresa Euromed incontra gli studenti del Leonardo Sciascia, si parla di come fare impresa e gli strumenti che ci sono nella normativa in questo periodo. Sì, questo è un ulteriore incontro dopo tanti che ne abbiamo fatto in tutta la Sicilia, nella quale stiamo cercando di spiegare ai giovani, ma non solo, a chi fa impresa, a chi vuole fare impresa, sulle opportunità che esistono nel Paese e che spesso non vengono accolte in questo luogo geografico, in Sicilia in particolare. È un tema importante perché parte dall'idea della crisi che stiamo vivendo e nell'ambito della crisi stiamo anche spiegando che ci sono delle opportunità rivolte alle imprese per la ristrutturazione dei debiti. In agricoltura questo esiste da tempo, è un istituto molto utilizzato nel nord Italia, poco nel sud. Cioè è un'occasione per chi ha dei debiti nel breve o comunque dei debiti invagati di poterli trasformare nel medio e lungo termine. Poi c'è un'opportunità notevole per le nuove imprese, giovanili e femminili, per cui stiamo informando i giovani, le donne, che possono oggi accedere a misure a loro destinate attraverso noi, attraverso gli sportelli che abbiamo creato in Sicilia. Quindi utile occasione. La scuola poi è per noi l'elemento portante perché all'interno della scuola stiamo portando avanti un'iniziativa particolare che è un premio destinato alla Green Economy. C'è un notevole interesse perché si sono candidate 300 scuole in Italia a partecipare, quindi noi stiamo lavorando anche per informare i giovani, gli studenti sull'opportunità offerta dalla ecosostenibilità, da un ambientalismo come dire maturo, da situazioni che concorrono a aiutare l'ambiente, il territorio e al tempo stesso creano nuove figure professionali molto richieste dal mercato. Come rispondono i giovani? Un notevole interesse, proprio in questi giorni dicevo che sia a Catania, a Palermo, a Caltanissetta, tutti i giovani che hanno partecipato hanno chiesto, sono intervenuti, hanno avuto modo di approfondire. Noi abbiamo fornito le schede, informazioni utili e stanno lavorando per il concorso che si sta sviluppando. Ma un notevole interesse perché non è vero che i giovani sono così apatici come spesso vengono descritti. Credo che sia opportuno invece che le classi dirigenti se ne occupano adeguatamente.